E' stabile al 12% il tasso di campioni positivi che emergono dalle analisi di 4410 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. In numero assoluto sono 532 i nuovi positivi al covid in Abruzzo che variano da 1 a 99 anni. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva che segnano un più 3 rispetto a ieri e raggiungono quota 77, mentre sono complessivamente 757 le persone ricoverate. Crescono anche i decessi, oggi sono 11 che portano il totale delle vittime a 879 nell'inizio emergenza. Aumentano i guariti, oggi sono 318 in più per un totale di 8.415 e gli attualmente positivi più 201 che raggiungono quota 17.762, mentre 17.005 persone sono in isolamento domiciliare. La provincia più colpita dai contagi nelle ultime 24 ore, quella del Terramano, sono 241 i nuovi pazienti covid. Segue l'Aquila con 120, Pescara con 91 e poi Chieti con 50, mentre per 30 persone ci sono in corso le indagini per l'accertamento della provenienza. Intanto nell'Aquilano prosegue la campagna di screening di massa organizzata dalla regione Abruzzo. Nei vari comuni della provincia ci sono postazioni nelle quali volontariamente e gratuitamente ci si può sottoporre ai test rapidi antigenici che in caso di positività consentono di isolare gli asintomatici che potranno così essere sottoposti a tampone molecolare di conferma. Sia ieri che oggi il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ha fatto visita ai comuni dove si sta mettendo in atto lo screening che presto dovrebbe riguardare le altre province a partire da quella Terramana. Ieri abbiamo registrato un buon afflusso nelle città, nei comuni che hanno cominciato e circa l'1% di positivi asintomatici. È importante questo dato perché fa capire che se si sottoporranno a questo screening volontario decine di migliaia di cittadini noi troveremo, possiamo arrivare a trovare 2-3 mila positivi asintomatici che oggi circolano diffondendo il virus e che invece con questa azione preventiva possiamo bloccare contribuendo in maniera importante a riportare sotto controllo la diffusione dell'epidemia della nostra regione.